Era una sera qualunque e a un certo punto mi scrive il mitico Carpi e mi chiede Io ero perfettamente consapevole del casino del disastro che avremmo creato e per questo lo abbiamo fatto. Quindi godetevi questo macello di video. Io prevedo un disastro. Sappiate che siete in gabbia e se direte qualcosa di illegale verrete portati davanti a un giudice bannati. C'è lo fi, mi era malissimo. Sì. C'è lo fi, c'è lo fi. Me ne vado con i VIP, addio. Aspetta, c'è lo fi, c'è lo fi. C'è lo fi, c'è lo fi, c'è lo fi. C'è lo fi, c'è lo fi, c'è lo fi, c'è lo fi. Sì, bellissimo. Ma mi ci devono tutti i pappagalli. Avranno vita breve. Sì, sì, sì. Allora, c'è un problema, ragazzi. No, sono la regina dell'Oletto, c'è un problema. Ci dica tutto. Via, seguiamo il boss. Yo, what's up, Guri? Andiamo. Dammi un bacio, dammi un bacio. Ma io mi chiedo, cosa ne stiamo facendo nella nostra... Quello c'è il cavallo, perché? Voglio un bacio, Gartri. Quello c'è un cavallo. Dobbiamo prendere il cibo. Attacchiamo il villaggio. Andiamo, soldati. Sfondate le case. Faccio un piccone. Senti che hai relax qui. Un piccone chill, mamma mia. Tieni, tieni questa roba qua molto utile. No, vabbè, non dovevi. Tieni, guarda, un regalino. Wow, grazie. Non ce l'ho, ti fa in quinta inutile, però, ok. Dobbiamo seguire il boss, dov'è? Andiamo, andiamo. Ho una patata. Andiamo in caverna, tutti. Senza cibo, senza niente, ma noi andiamo in caverna. Andiamo in caverna. Sì. Amici. Questo è un trepeto omicidio, no? Va bene. Stiamo andando tutti verso la morte. Creeper. Scheletri. Ragazzi, carpi, io sono una salmarina, quindi posso notare. Aiuto. Io, io, non vedo nulla. C'è una salmarina, quindi posso notare. Sì, ho bisogno di stipo. La barfetta. Finca la barca va. Lasciala andare. Amici, siete i casinisti. Dobbiamo sconfiggere questo drago. Sì, sì. Non ce la faremo, sicuro. L'impegno di tutti è fondamentale. No, buonanamo. Capì, live di 16 ore. Dammi del cibo. Dammi quella patata, ti prego. No. Ti pago. Ti sei perso? Ti sei perso? Tieni. Stiamo in un deserto. Eh, mi dai una patata? No, ragazzo, ho mezzo cuore e devo fare questa salita senza cuore, ragazzo. Uffa, non me lo rispondo. Dammi la patata. No, ragazzo, ma te la patata. Che si dice? Ho fame. Dammi la patata. Tieni. Sì, e vai, grazie. Viva la patata. Buonissima, ne è falsa la pena. Ma dove sta andando? Sto dietro. Buonissima, buonissima, buonissima. Vai, ci siamo. Andiamo a scoprire l'America. Vai, andiamo. Aspetta. Ok, ma guarda, è bellissimo. C'è uno che va a nuoto. Finché la barca va. Lasciala andare. Finché la barca va. Oh, portale. Ma che roba. E niente. No, no. Questo era l'oceano più piccolo mai visto. Stato in baso. Che succede? C'è uno che va a fuoco, il disastro. Vabbè. Sempre. Scendiamo. Eccoci. No, Venox è bruciato. Carpi, ma facciamo il portale, no? Vai, facciamo, facciamo. Eh sì, ma magari dobbiamo appendere del ferro. Carpi, non è che ci daresti un po' di cibo di cibo? No, chiedo, eh. Eh sì, sì. T'ho provveduto. Cibo per tutti. Ho moltificato i panini, avete visto? E bruci su. Esatto. Mi lascia la mancia. Luke, no! Luke! C'è l'acqua, vai nell'acqua! Nell'acqua! Ok. Aia! Sto portale sarà il nostro massacro. Uno, due, ragazzi, mettete... Allora, mettetevi dell'acqua, sì. No, l'hai rovinato! No! Hai fatto casino! Sei un vito! Chi è l'infame? Chi è stato? Qualcuno faccia l'aeron golem. Ci penso io che son pro. Tu, Toxicanguri, non era pro, a quanto pare. No, 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 fermi, fermi! Vai, prendetelo! Menatelo, tutti quanti! Attacco al villaggio, attacco al villaggio! Bravi, a botte! Ho preso il ferro io. Mamma mia, che team! La potenza del gruppo. Che scalinata! Scaviamo una fortezza! No, aspetta! Ma come l'avete fatto sto portale? Mancano due blocchi, dai! Dai, io sono pro, per chi torna? Forse, forse, forse. Vai, ragazzi, ragazzi, che entriamo in te. Pronti? Perché entriamo? Ragazzi, abbiamo, ci vediamo la gatta. Fate spazio! Non trollate, non trollate, fermi, dai. Ok, andate! Dov'è Arlama? Let's go! Andiamo, andiamo! Finirà molto male, ma ok. Bene! Oddio! Picchiatelo! Ragazzi, tra il tutto io, non mi preoccupate. No, ragazzi, ora ma ci dà fuoco, ci dà fuoco più che altro fuoco. Scappate! Non è vero. Grazie, sono. Picchiatelo! Ma qualcuno che lo uccide, grazie! Andiamo, andiamo. Menatelo, a botte, a botte! Ragazzi, provate a scoprire in Lend. GG! Ciao, carpe, arrivederci! È vero! Perché non ci abbiamo pensato prima? Andiamo! Facialo qui! Sì! Carpe, carpe, fai flash! Carpe, fai flash! Carpe, fai flash! Vieni qua! Ok? Metti barco, fai flash, va! Uh! È giù! Picchialo! Capo! Ancora nessuna traccia della fortezza? Oh, carpe! Sono morto! No! No! È niente! Abbiamo perso il capo! Sono io il nuovo capo! Adesso obbedirete a me! Seguitemi! No, sono io il capo adesso! Venite! Comando io! Venite! Tiè, scemo! Adesso farò un bridge! Sono pro... Fast bridge! Non buttatevi giù! Abbiamo perso metà dei nostri soldati! Perché c'è una collisione? Ho sentito... Ho sentito qualcuno mettere in barca che sta attraversando il ponte e poi sento quelli che cade dall'alba. Oddio! È bellissimo! Aiuto! Comunque siamo rimasti in metà più o meno, eh! Abbiamo perso tutti i soldati! Bravi uomini sono caduti quest'oggi! Di qua! Avete ragione! No! No, 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 no! Ah! Non rompete lo spawner dei blaze, amici! Non rompete, dai, fatti i seri! Picchiateli! Oddio! No! Muraia! Ah! Vado io! Qualcuno si può sacrifichi! Io! Alla guerra! Quanti verghi abbiamo? Io non ne ho! Ok, Carpi, facci vedere i progressi che hai fatto off-camera. Eccoli! Perfetto! Oh, ragazzi! Ragazzi, ho trovato uno! Oh, Dio! Ma guarda te che fortuna! Oh, Dio! Madò! Oh, Dio! 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 Suicidio di massa! No! Eh! Qualcuno ha letto qui? Qualcuno ha letto? Va bene! Ma trafetto, 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 trafetto! No, 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 non serve più, non serve più! Ah! Qui qualcuno ci schiatta, eh! Attenti! Ok, usciamo, 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 venite tutti! Tutti fuori, tutti fuori, usciamo, usciamo! Andiamo via! Attenti! No! Aiuto! Ok, GG! Bravi! Eh, abbiamo perso metà dei nostri soldati! Facciamo un ultimo tp! Ascoltatemi un attimo! Prossimo evento! Nel prossimo evento dobbiamo fare una chiesa e il vantaggio fa la messa! È da fare! Ma davvero, è un talento! Ci siamo! Sè! Ok, preparati, eh! Psicologicamente! 5, 4, 3, 4, 3, 2, 7, 1. Vai! No, cosa c'è? Scusa! Spostatevi! Oddio! con la barca lo faccio per voi lo faccio oddio oddio sono salvo va bene a posto a posto così spero che funzioni sono un grande adesso mi butto giù con il lag e si va al prossimo mi sa che li abbiamo rotti tutti li abbiamo rotti tutti quanti si ce n'è ancora uno lassù ma c'è un eroe che ci sta andando e carpi e poi c'è qualcun altro no io non sono codardo e a terra terra picchiatelo e a terra aspetta eh non ora è niente no attenti ci penso io madonna sono uno speedrunner mori crepa no 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 vieni 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 no ci sei è morto no non ho visto no non ci credo c'è l'ho fi addio c'è l'ho fi guarda 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 puoi ancora ammirare tutto è nuovo tutto è nuovo tutto è nuovo mamma mia da giggi su go